Musica Mesdames e messieurs, s'il vous plait, soyez prêts pour Aron Chupa e Abba Taod, c'est parti Musica Ragazzi e ben andati in questo nuovo video, quel vostro Shadowfire che vi parla E oggi siamo ritornati con una nuovissima serie Ragazzi, lo so, è da un sacco di tempo che non porto video, però lo dovevo per forza fare Momento tosse Cominciamo Questo nuovo gioco Tanto io metto la webcam Sperando di mettere la webcam Eccolo qua, metterlo Così Questo nuovo gioco E Eccolo qua Paco Bener Siamo, noi siamo Paco Bener di FIFA Mamma mia Cominciamo con il primo pacchetto Oggi ne apriamo Ne apriamo Ne apriamo, ne apriamo, basta 20 pacchetti se ci arriviamo Primo pacchetto Orrero Rem Douglas Costa Allora, lo scopo di questo gioco è Fare più punti possibili con i pacchetti Ora poi vi darà le squadre Cercando di trovare if di questa settimana Poi tocchiamo il pacchetto Un if Oddio un if Crondelli Boom boom Un if Grande così Mamma mia Mamma mia un if Il Eccolo qui Crondelli Il primo if che abbiamo trovato Vai Terzo pacchetto Quadrato Quadrato No Poi alto Ok Un if Quasi due minuti Allora Apriamo il quarto pacchetto Vediamo Chi troviamo RB RB Ho visto Messi Non ho fatto caso Che questo gioco in inglese Per giocare a RB Mi sembrava E di Vabbè Poi Ti voglio Ti voglio Il tozzo Della Juve Vai Vai Eccoci qua E vabbè Una merda Una merda Una merda Tu la lana Ma chi Chi cazzo Sei tu la lana Ah Ho un sonno Che è un set Però è oro Raro Tu la lana Non è oro Raro Vabbè Vai Questo pacchetto Molin Una merda Vediamo Vediamo se c'è un if No Civelle Tonelle Civelle Vai Settimo pacchetto Orraro Ho visto Bail Williams Ottavo pacchetto C'è la mela La mela Padoin Subito Più forte Come dice Le giovedere Non è giro Di Messi Perché abbiamo Padoin Incredibile Non l'ho detto Non l'ho detto Non lo dirò mai Come hanno detto Però Passiamo avanti Nuovo pacchetto Ottavo Per secondo Nuovo pacchetto Un altro Mortacci tu Vai a fanculo Zabbaleta di merda Ancora Zabbaleta Che poi non ve lo Un cazzo Un cazzo Un peep Next pack Iniziamo qui a tre minuti Abbiamo sette minuti Là Vai Top year Raro LP Montreal Montreal Ormai Un if L'abbiamo Soppassato Molto Se if Un if Vai Unisimo pacchetto oronaro e vabbè medel che merda che merdel le battute abbiamo trovato anche song e anche pinto che bella faccia che ha pinto vai dodicesimo pacchetto benesuschi bene sto urlando perchè io urlo siamo siamo quattro è raro oh caseres caseres musa ottimo alla ricerca di messi è la ricerca di un if tutti gli if ma soprattutto messi lm perisic come perisic ancora qui comunque ragazzi qua c'è un vento incredibile che dipide non so se si sente però andiamo avanti tredicesimo pacchetto oraro e milner ma perchè di mese di mese l'inquadratura è ottima ok intanto andiamo con il quattordicesimo pacchetto siamo a 5 minuti vai 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 oraro ci ma perchè gli agentini mi scordo sempre che in inglese bene roco e poi abbiamo trovato tataru jaru va bene va bene ti chiamo il sedicesimo pacchetto r non ho parole non ho parole spero sempre che in uno di questi pacchetti in un giocatore di marda esce un if buono va bene va bene va bene merda next pack siamo a 6 minuti siamo al sedicesimo pacchetto vabbè come sedicesimo mortacci tu ma non è sedicesimo siamo in Anna ma che merda di faccia un if tu vabbè ora esce un if limina da sotto diciossettesimo pacchetto ma perchè ma mortacci dai forse madonna mia vai vattene 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 non ti voglio più vedere frey rabbio lo era segnato dicettesimo pacchetto un if un altro if e chi è è De Bruyne 87 oh porca miseria mamma mia De Bruyne 87 che culo di merda next pack diciannomesimo pacchetto oh oronaro in culo madonna mia in culo non ti voglio più vedere stop vai l'ultimo pacchetto l'ultimo pacchetto discarto levati non ti voglio vedere levati forza abdelawai zitto bene ragazzi se questo video vi è piaciuto non andava per l'ultimo pacchetto noi ci vediamo al prossimo video ci vediamo al prossimo video bella bella ciao ciao